Ciao a tutti, sono MaryVideogames, oggi giochiamo con l'app di Mario Kart Tour e niente, vediamo un po'. Il tutorial ragazzi è stato tanto, tanto, cioè non è una cosa, ecco. Ogni tour dura due settimane, non aspettare troppo l'unità competizione, gettati al miss che fai vedere a tutti chi comanda, va bene. Praticamente il primo personaggio che mi hanno dato è stato Todd, vabbè, so, a tutti. E poi dopo quando fai il tutorial, quando finisci, praticamente ti regalano un pitch. Adesso vediamo un po' come funziona. Scegli con attenzione il pilota il veicolo e il deltaplano, se li usi su un percorso preferito avrai un vantaggio in pista. Ok, quindi gli unici due personaggi che ho sono questi due, penso che magari ogni gara ti si sblocca un personaggio, non lo so. Boh, io userei pitch. Ok, questa è l'unica macchina che ho. Ok, questa è l'unica cosa che abbiamo, quindi devo selezionare per forza questi. Ok, ok, siamo a New York, raga. Va bene. Vediamo un po'. Eh, ma che bella. Proprio bella sta pista, mi piace. Chissà quante volte andrò a sbattere adesso, vediamo un po'. Ok, ecco pitch. 3, 2, 1, go. Ok, vediamo. Oh, abbrutti strunz. A strunz, a strunz. Ok, siamo primi. Ok. Ok, già stanno andando a sbattere, perfetto. C'è qualcuno che mi ha colpito, ok. Va bene. Vai, 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 vai. Allora, vai, 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 vai. Ok, sono mezza addormentata, raga, perché lo sto registrando in mattina presto, perché poi dopo non posso più registrare. Quindi se mi sentite un po' giù è per quello. Ok. Dai, dai, che siamo primi. Devo girare, devo girare, devo girare. C'ho il fungo. Usalo. Ok, più o meno. Bowser, non rompere le balle. Devo arrivare prima, capito? Cacchio. Ok, siamo prima, dai. No, vabbè, è troppo forte. Quando si gira? Vai, gira. Ok. Gira, gira, gira. No, adesso mi macchia, non vedo più un cacchio. Si è bloccato pure il gioco, bene. Dai. Non vedo un cacchio. Perché si blocca il gioco, vorrei sapere. Dai. Dove sono finita? Dai, che siamo primi, dai. Non dirmi che all'ultimo mi superano. Oddio. Ma si blocca il gioco. Non puoi farmi questo. Non ora. Dai, dai, dai. Dai. Che siamo primi. Sì, siamo arrivati i primi. Ok. Ecco, adesso costo sì. No, non stai la tutta la palazzina. Bene. Vabbè, questo sarà il livello più facilino, sicuramente. Poi, pian piano, vediamo se stanno sul primo. Beh, dai, come il gioco è bello, eh. Congratura azione. Aumenta i punti di piazzamento. Allora, aumenta i punti di piazzamento. Ho tenuto il termine del corso. Va bene. Non so manco leggere, raga. E tutto il livello giocatore aumentato. Ora, disponibile una nuova classe. Ok. La bella esperienza aumenta in base alla classe di sì e al piazzamento. Quando si riempie il suo limite, il massimo aumenterà. Ok. Va bene. Bonus punteggio. Mega stelle per 5 raccogliene tante per aprire nuovi tour. Ah, ok. La quantità di mega stelle che otterrai varia in base ai punti che racimoli nelle corse. Ah, tieni d'occhio i premi e cerca di fare più punti che poi. Ho capito. Laguna smack. No, che bella Baby Beach. Mi piace troppo. Io la voglio. Voglio Baby Beach. Ma se io... Ma come si fanno a sbloccare i personaggi? Tanto per sapere. Io voglio sbloccare Baby Beach. La voglio. Non ce l'hai ancora appunto. Lo voglio. Va bene. Dai, giochiamo con Todd adesso. Va bene. Tanto sono le uniche cose che posso selezionare. Ora è disponibile la classe 100cc. La velocità è maggiore. Gli avversari sono più... Boh, cambiamo. Chi se ne frega. Ok. Proviamo. Quante cacchie di pitch ci sono? Cioè, ci sono tre pitch. Cioè, praticamente, se io decidevo pure pitch, eravamo quattro pitch. È pitch, 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 pitch. Ok. Se sta un po' pina l'app. Non lo so perché fa... Non lo so se avete sentito come ha fatto. Devo avere paura. 3, 2, 1, go. Ok. Oh, non iniziare, né? Ecco. Iniziamo a impappinarci. Dai che devo prendere il dadino. Non cadere giù. Sono in acqua. Che bello. In acqua. Ok. Sono diventata piccolina. E tu sei piccolina. Non ci vado perché se no rischio... Dove cacchio? Devo andare. Ok. Cioè, mi stavo confondendo. Non riuscivo a capire più dove dovevo andare. Di qua! Sono caduta in acqua, raga. E farò cagare. Non ci sto capendo più niente, raga. Cacchio, su. Dai, dai. Vai su, vai su, vai su, vai su, vai su, vai su. Ok. Cioè, sono un sesta, raga. Faccio schifo. Dai, dai. Eh, non ho capito bene come era... Cioè... A parte che sono andata fuori. E quindi poi non sono riuscita più a capire. Cacchio, mi trovavo. Poi sono mezza pure rincoglionita. Perché ho pure sonno. Quindi... Non mi cadere giù. Ok, il fungo qua ci sta, va bene? Ok, vai. Ti prego, dobbiamo arrivare primi. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Più veloce che sei. Forza! Dai! Ti preghi. Ok. Vai. Dai, conchiglia. Sono terza al momento. Se non mi perdo. No, no. Di nuovo come prima, no, eh. Di nuovo come prima, raga. Vabbè. Ma tanto mi stacca alla fine. Infatti, devi andare sempre giù. Quindi... Non cambio tantissimo. No, l'immortacci. Peach. Ti uccido. No, non ho preso il fungo. Arriverò l'ultima. E toghi, tira le balle. No, vabbè. Alla fine sono arrivata prima. Sì. Sì. Ho fregato tutti. Gli ultimi saranno i primi. Vabbè. No, vabbè. Non ci posso credere. Sono riuscita ad arrivare prima. Ma che culo. Perché sono riuscita a prendere il fungo. No, vabbè. Che culo. Ma che culo, raga. Io voglio Baby Peach. Uffa. Ah. Ci sono altre cose qua. Ho capito. Va bene. Vabbè. Proprio man mano le sbloccheremo. Comunque, ragazzi. Fatemi sapere se volete che continuo con questa app. Che magari sblocchiamo... No, è cosa. Poi proviamo Peach di nuovo. Qualcuno mi sa dire come si sblocca Baby Peach. Grazie. Io gioco sempre con quel personaggio lì. O con Peach o con Baby Peach. O con Mario. Cioè. Non mi tolgo... Cioè, sì. Li ho provati. Li provo sempre tutti. Però... Cioè. I miei preferiti sono Peach e Mario. Quindi gioco sempre con quelli. O Baby Peach. Va bene. 3, 2, 1, go. Vai. Forza. Dobbiamo vincere. Dobbiamo vincere. Dobbiamo vincere. Sono già quarta. Oh. Pezzo di merda. Vai. Famo nero sto browser. Bene. Adesso sono gigattita. Posso ucciderli, vero? No, vabbè. Sei pure impappinato. Ma perché ogni tanto fa... Lo fa anche con voi? Lo fa solo con me? Tanto per sapere. Ok. Non vedo un cacchio. Però va bene. Non so neanche dove cacchio sono. Bene. Ok. Vai. Usa. Usa. Così diventiamo primi. Se qualcuno non mi supera. Usa anche con me. Eccolo. E che cosa avevo detto? Io sono previdente, raga. L'avevo detto io. No. No. Ecco. Mi sono spostata. Prima mi arrivava. Cacchio. Sono settima. Raga. No. Non è possibile. Non posso arrivare settima. No. Settima. No. Faccio schifo settima. No. 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 Vai. Cavoli. Pure io sono stata fiscata. Come? Cioè io tiro le cose... E mi pesco pure io. Bene. Dai. Dai. La cosa brutta qua che non puoi accelerare. Dai. Sono terza. A meno arrivare terza sul podio. Vai. No. Brutto stronzo. Ciao. Adesso arrivo quarto. Non ci posso credere. Ma dai. Non è giusto. Sono arrivata quarta raga. No. Ma vaffanculo Todd. Ci uccido. Ma quarta non è sul podio. Sì. Sempre è meglio arrivare quarta che ottava. Però c'è che cacchio. Uffa. Va bene dai. Proviamo un altro circolito raga. Vediamo. Prova a superare la sfida col pilota. Veicolo e deltaplano predefinito. Ok. Ma posso giocare con Mari? Ma l'avete sbloccato? Cioè che cacchio. Per una partenza al razzo. Tocca e mantieni il dito sullo schermo. Quando il conto la rovescia è sul 2. E toglilo sul via. Lascia i tuoi avversari sul posto. Con una brucia. Ah. Ho capito. Niente. Ok. Tieni il dito sullo schermo dal 2. Va bene. Ok adesso. Mai. Perfetto. Bene. Ho capito. Quindi è una tattica che posso provare. Ecco. Trofeo terminato. Non sono riuscita a leggere perché avevo il dito sopra e quindi. Completato. Quello di Mario abbiamo completato. Ecco un po' di rubini per festeggiare il tuo primo trofeo. Va bene. Grazie. 20 rubini. Ah faccio. Grazie. Puoi usare i rubini per eseguire i lanci dal tubo. Puoi ottenere piloti, veicoli e altro. Ah. Ecco. Puoi fare un lancio dal tubo del menu. Vuoi usare i rubini? Ma se io non li voglio usare usiamo i 5 rubini? Va bene usiamoli. Vediamo chi ci si sblocca. Vediamo un po'. Adesso esce il personaggio. Oppure che ne so una macchina o qualcosa perché non lo so cosa può uscire. Ecco una macchina. Ma io volevo un personaggio. Sì vabbè la macchina può servire. Però volevo il personaggio. Cattivi. Datemi personaggio. Continua a correre. Alla fine otterrai tutti i trofei. Ma datemi personaggi. Sì va bene. 100 monete. Ok. Va bene ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete altri video su Mario Kart Tour. Fatemelo sapere. Niente. Mi raccomando. Lasciate un like. Commentate. Iscrivetevi al canale. Seguitemi su Instagram. Ciao ciao. 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 Ciao.